Che cosa sta facendo? Non le hanno insegnato la respirazione pre-parto? Sarà un'ottima madre. Mia moglie voleva fare l'epidurale, ma alla fine l'ho convinta. Il parto è un'esperienza che va vissuta fino in fondo. È una sfida con la vita. La sua, invece, è una sfida con l'evoluzione. E l'evoluzione ha perso! La sua, invece, è un'ottima madre. La sua, invece, è un'ottima madre.